Si cambia sulle statali 80 e 17 con una nuova viabilità creata con un anello triangolare in prossimità del casello autostradale dell'Aquila Ovest, pensato per snellire il traffico e rendere più sicura la zona. I lavori hanno avuto un lungo e complesso iter, ma sono quasi ultimati. Da oggi si sta sperimentando qui la nuova viabilità. È un'opera decisa dal Comune, una sorta di anello triangolare. Si tratta in realtà di una mini rivoluzione del traffico, del terzo lotto che andrà a completare il nodo viario di Viale Corrado IV. Si è deciso di provare a sperimentare questa nuova viabilità che comunque sarà definitiva, anche se la zona ha una segnaletica provvisoria perché sarà a cantiere almeno sino al 30 maggio, perché è un giorno in cui probabilmente circolano meno vetture. C'è anche la Polizia Municipale per meglio aiutare gli automobilisti ad orientarsi in quello che sarà un grande cambiamento voluto per rendere questa strada, che è molto trafficata, più sicura e anche in qualche modo decongestionare il traffico tra le due statali 80 e 17. Dal punto di vista pratico sarà possibile entrare nella 24 solo dalla statale 80, mentre l'uscita sarà consentita sulla 17. Tutto il traffico in uscita dall'Aquila diretto sulla 17 dovrà imboccare obbligatoriamente la statale 80 e mettersi poi sulla bretella autostradale per confluire sulla stessa statale 17, sia in direzione uscita dalla città che verso il centro storico. Allo stesso modo chi proviene dalla statale 80 in direzione dell'Aquila dovrà svoltare a destra per poi proseguire in qualsiasi direzione. L'opera, visto lo stanziamento da parte del Comune di 1.200.000 euro, sarà rifatto tutto il manto stradale che già era in pessime condizioni, aggravato ora dal continuo passaggio di mezzi pesanti. I lavori sono iniziati il 5 ottobre del 2020, quando era assessore ancora Vittorio Fabrizi. Sono già stati diversi cambiamenti nella viabilità in questi mesi per consentire lavori da entrambi i lati. Il progetto fa parte del terzo lotto di lavori finalizzati a rendere più funzionale la viabilità di accesso al capoluogo di regione.